È salita in cima all'edificio di geologia all'interno del complesso di Monte Sant'Angelo dell'Università Federico II di Napoli e si è lanciata nel vuoto. Ha scelto di togliersi la vita all'università una studentessa 25enne originaria di Sesto Campano, Giada De Filippo, che ieri a ora di pranzo si è allontanata dalle aule, dai colleghi che affollavano i corridoi della facoltà e dalle famiglie riunite per festeggiare le lauree e ha definitivamente abbandonato i suoi affetti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane, non era riuscito a confessare ai parenti di essere indietro negli studi e di non aver sostenuto gli esami necessari. Agli amici e ai familiari aveva infatti detto di doversi laureare proprio ieri, ma il suo nome non compariva nell'elenco dei laureandi. Appresa la notizia, il rettore Gaetano Manfredi si è recato subito al complesso di Monte Sant'Angelo. Ha dolorato anche Luigi Paolone, sindaco di Sesto Campano, la città in provincia di Isernia dove risiedeva la giovane. Era una ragazza solare, sempre sorridente, dolce e bellissima, speciale anche la sua famiglia, il padre, la madre e il fratello. Il corpo della ragazza è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Napoli per l'autopsia. L'ultimo saluto al fidanzato al telefono, mentre si apprestava a salire sul tetto della palazzina.